bravo grazie grazie come vuoi concludere questo incontro decidi tu guarda facciamo questa cosa per le signore in sala regalo di Natale mi metto pure gli occhiali perché come diceva Gassman c'è sempre meno luce nei teatri ecco è colpa delle diottrie sono i teatri che hanno i fari buoni e andiamo con una non è un cavallo di battaglia però insomma è una pagina che le signore piace i due sono innamorati da poco ma soprattutto succede una cosa meravigliosa sempre nella piccola quota che è il romanzo che è questo romanzetto d'amore cioè dopo tutta una vita senza aver mai dormito con una donna Vittorio non che non abbia avuto rapporti ma se sempre poi tirato indietro perché non si è mai fidato senza aver mai dormito in generale anche da solo finalmente dorme succede questa cosa miracolosa grazie a questa donna miracolosa che è Laura e c'è questo questa paginetta sarò brevissimo che mi piace leggere soprattutto perché non è in prima persona quindi io mi posso staccare tranquillamente nessuno ha il dubbio sono io non sono io e quindi maestro se fa sotto una sua cosa volete sciopene quello che vuole ma anche garco ma anche anonimo anche veneziano viterbese un suo tè quello che vuole sarà bellissimo grazie lui ora dorme hai capito hai capito vittorio dorme è incredibile dorme anche Laura sono nascosti uno dentro l'altra oh ti parlo di dormire finalmente ti parlo di dormire veramente non di strappare qualche mezz'ora qua e là al cielo della notte non parlo di chiudere gli occhi davanti alla paura per qualche minuto cercando di non spalancarli al primo scricchiolio della stanza no dormire il buio non li spaventa più anzi diventa meraviglioso tutto diventa altro e vittorio dorme con Laura che dorme felice tra le braccia di vittorio dormono senza soffrire sognano di fare l'amore appena svegli sognano uno la gioia dell'altra e diventano sempre più leggeri e il loro sonno sempre più pesante alle sei del pomeriggio mentre fuori c'è ancora un po' di luce dormono la loro notte più bella sì fuori c'è ancora il sole ma Laura e vittorio non lo possono sapere perché stanno dormendo uno saldato all'altra e appena si allontanano di un centimetro nel buio le loro mani le loro gambe si cercano e si trovano in un lampo come i corpi di due acrobati al trapezio nel sonno quelle mani si trovano si legano si fondono come in un numero provato tutta la vita davvero un peccato doverli svegliare grazie grazie maestro grazie di cuore buon Natale grazie buon Natale grazie a tutti 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 grazie a tutti